C'è una volontà, sempre meno nascosta, che con le complicità delle istituzioni intende annientare la cultura Vibo-Varenzia? A porsi la domanda sono i vibonesi all'indomani dell'ennesimo scippo. È accaduto infatti che, dopo la conclusione trionfante della stagione teatrale che ha segnato una straordinaria partecipazione di pubblico, e quando si è ormai a metà della rassegna regionale di teatro amatoriale, nel giorno in cui doveva andare in scena la compagnia vibonese La Ribalta, i vigili del fuoco, senza aver effettuato un ulteriore sopralluogo, abbiano recapitato una lettera al gestore del moderno cinema adattato a teatro in una città che da oltre vent'anni non ha più teatro, con la quale gli si impone di non ospitare più manifestazioni che non siano la semplice proiezione di film. Siccome stasera c'era un nuovo spettacolo teatrale, ci hanno fatto a non farli. Ci stiamo informando a vedere che cosa dobbiamo fare, che io non lo so ancora. Dovremmo vedere. Sorpresa, sconcerto e soprattutto sconforto in chi con coraggio prova a fare qualcosa per risollevare una città che occupa tutti gli ultimi posti nelle classifiche di vivibilità. Si reagisce con tanta rabbia, con tanta amarezza e soprattutto con un'unica consapevolezza che chi fa teatro come noi, amatorialmente, nella città di Vibbo Valencia, da oggi in poi dovrebbe dare stop al teatro a Vibbo Valencia, perché nella nostra città non esiste nessun luogo agibile a un pubblico spettacolo per rappresentazioni teatrali. Fino ad oggi questa consapevolezza forse non era pubblica, oggi l'abbiamo appresa, stasera il teatro, il cinema moderno non vedrà l'ospitalità della ribalta con Serata in famiglia e nemmeno della Guilt Calabria che ha organizzato insieme a noi e altre tre compagnie vibonesi facendo parte della Guilt la rassegna tutti a teatro. Evidentemente tutti a teatro, la cultura teatrale, la salvaguardia di un interesse pubblico a Vibbo non esiste, è un interesse che non si può tutelare. Qualcuno dice che solo attraverso la cultura si può superare il degrado sociale, se sono le istituzioni a mettersi contro come si può fare? Evidentemente la cultura è un ulteriore obiettivo difficile da raggiungere a Vibbo Valencia, probabilmente sì.